Moto GP, Yasukawa nuovo consulente. Colpo di mercato messo a segno dalla Dorna, la casa detentrice del moto mondiale. Attraverso un comunicato ufficiale infatti, l'azienda di Ezpeleta ha annunciato di aver ingaggiato Hiroshi Yasukawa, ex direttore di Bridgestone Motospot. Yasukawa ha dichiarato di essere molto contento dell'intesa raggiunta con la Dorna e di non veder l'ora di cominciare il lavoro. Apprezzamenti sull'operato dell'ex uomo Bridgestone sono arrivati dallo stesso Ezpeleta, che ha definito il giapponese un uomo di grande esperienza e di assoluto spessore. Ovviamente il momento drammatico che il Giappone vive a tutt'oggi dopo il violento tsunami di qualche mese fa fa da contraltare all'assunzione di un giapponese nell'organigramma della Dorna. Tali ipotesi però non trovano riscontro, dato che il curriculum di Yasukawa parla chiaramente di un uomo capace e che da sempre, ovunque abbia lavorato, ha fatto bene, ottenendo grandissimi risultati. Il nuovo consulente della MotoGP quindi inizierà a ricoprire il suo nuovo ruolo da subito, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza. Grazie.